Tra pochi mesi, presumibilmente tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, gli spezzini saranno chiamati ad eleggere il loro nuovo sindaco per il quinquennio 2022-2027. All'interno del centrodestra, non senza interno travaglio, si è arrivati alla riconferma del candidato uscente Pierluigi Peracchini. Dopo il vertice del centrodestra dei giorni scorsi è stato riconfermato il sindaco Peracchini non senza un interno travaglio. La Lega sostiene il sindaco in maniera convinta. Quali sono le perplessità che c'erano e come sono state poi superate? Penso che dal punto di vista amministrativo nessuno poteva mettere in discussione il buon lavoro che si è fatto in questi cinque anni. Grazie al sindaco Peracchini, grazie anche al supporto di una forza politica che rappresenta tre assessori in giunta e il vice sindaco. Cinque consiglieri che hanno sempre votato con la maggioranza e si hanno sempre comunque dati da fare per la propria città. Tutto il dibattito è scaturito naturalmente cercando prima di tutto di far rientrare due forze politiche che da un anno mancavano all'appello della maggioranza, cioè Forza Italia e Spezia Popolare che noi consideriamo importanti nel perimetro di centrodestra. Si è confermato la figura civica di Peracchini e quindi come colla di una coalizione. Abbiamo rivisto anche il perimetro del centrodestra dove abbiamo rimarcato il fatto che non ci possono essere aperture a partiti di centrosinistra come era forse in auge come Italia Viva. Quindi dei punti importanti che sono stati portati a casa, io penso che sia stato un dibattito necessario, sì anche in certe fasi il turbolento, noi però pensiamo di aver portato a casa un risultato molto importante, quello di ritrovare un'unità di centrodestra che purtroppo si era smarrita. Questa discussione molto complessa ha portato l'uscita da Forza Italia del commissario provinciale Nanni Grazini e del consigliere Baldino. È già in campo la lista di Pazzaglia? All'interno del centrodestra non temete una moltiplicazione delle liste? Per quanto riguarda l'amico Pazzaglia spero che poi venga e sia magari dia un aiuto al sindaco Perachini anche perché so comunque condivide molto di quello che si è fatto a livello amministrativo della città. Per quanto riguarda sia l'amico Grazini sia l'amico Baldino con cui ho condiviso anche l'esperienza da consigliere comunale penso che faranno magari le loro scelte. Io penso che quello che dobbiamo dare ai cittadini non è sia tanto dal punto di vista ideologico. Sì ci sono ad esempio state delle fratture anche importanti, ricordiamo dopo la lezione del Presidente della Repubblica con gli arancioni, comunque con il gruppo di Cambiamo, stiamo cercando comunque di ricreare un perimetro sereno però non possiamo naturalmente questa diatriba farla pesare sulle teste dei nostri cittadini.